Limonelli, chiosco bar, Elisa e Adin vi aspettano per una piacevole sosta in cucina, locale tipico con un pizzico di creatività, buon vino, salumi, primi piatti, gustosi e crescia tipica, verdure di campo, vi aspettiamo a Limonelli nello splendido lago di Castreccioni di Cingoli per farvi assaggiare e gustare le specialità di Adin. Grazie a tutti!